buongiorno amiche buongiorno amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu lo sei come me iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sarai sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti oggi voglio parlarti di yamaka mt07 del 2022 la yamaka mt07 appartiene a una famiglia di moto a cui viene prestata particolare attenzione nella progettazione con l'obiettivo di offrire un prodotto di qualità ma un prezzo accettabile la moto quindi si presenta vediamo nell'immagine eccola qui si presenta piccola e compatta è data quindi utilizzo a breve e medio raggio non avendo di fatto protezione aerodinamica adatta anche quindi a un pubblico femminile anche vista anche la sua compattezza e vedremo poi perché e leggerezza il motore si distingue poi per la regolarità i bassi regimi e una buona coppia agli alti con un ottimo allungo il motore bicilindrico una cilindrata di 690 cm3 4 tempi raffreddato a liquido quattro valvole per cilindro cilindro scusate una distribuzione bialbero la potenza massima di 73 cavalli 9.000 giro al minuto la coppia massima di 67 newton metro 6.500 giro al minuto la sella è alta 805 mm da terra quindi una moto adatta ai neofiti adatta al pubblico femminile ma anche a chi vuole divertirsi senza impegnarsi nel senso che la moto è semplice da utilizzare facile da utilizzare ma appunto ha una potenza più che buona di 70 cavalli il telaio è in acciaio ad alta resistenza e il motore concorre a irrigidire la struttura quindi il telaio e il motore sono fusi in un unico elemento che garantisce da una parte ottima resistenza dall'altra la leggerezza la sospensione anteriore formata da una forcella telescopica della kibbe con un diametro di 41 mm escursione di 130 mm al posteriore invece abbiamo il forcellone oscillante con leveraggi progressivi il mono ammortizzatore sempre della kibbe posizionato sotto la sella in posizione quasi orizzontale l'escursione della ruota di 130 mm il freno anteriore formato da un doppio disco da 298 mm con pinze e 4 pistoncini mentre al posteriore abbiamo il disco singolo da 245 mm belle le ruote vedete questo bel colore azzurro da 14 da 17 pollici sono in alluminio pressofuso 10 razze concorrono ad alleggerire la moto dal punto di vista delle masse non sospese il serbatoio una capacità di 14 litri il peso in ordine di marcia di 182 chilogrammi è piuttosto contenuto il prezzo di 7.399 quindi praticamente 7.400 euro conferma la volontà di yamaka di aver costruito una bella moto ma un prezzo di mercato ragionevole bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere sempre aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi ciao buona serata